Ecco come ho evitato che il contagio ospedaliero di un mese fa si espandesse, ecco come ho evitato che si creasse una zona rossa. Alberto Firenze traccia il bilancio di un mese di lavoro come commissario ad acta per l'emergenza coronavirus all'ospedale di Sciacca, spiegando di aver messo in piena sicurezza gli ospedali Sciacca e Ribera all'insegna di una prima riorganizzazione dei nosocomi guardando con ottimismo la fase 2. E ha così evitato che si creasse una zona rossa. Parla Firenze di un lavoro complesso anche perché, osserva, portato avanti in un clima all'esterno a volte ostile e desasperato da polemiche politiche locali che nulla hanno a che fare con la fase di emergenza coronavirus. Questione è quella delle polemiche per le quali l'assessore regionale Ruggero Rassa sabato scorso si è detto sconcertato. Lo ha fatto in una dichiarazione in cui ha precisato che il Giovanni Paolo II è oggetto di investimenti e attenzioni come non mai da quando è in carica il governo musumeci. Ha considerato molto grave Rassa che siano state riferite notizie scientificamente infondate che rischiano di mettere in allarme la popolazione e non è più tollerabile, dice, l'istigazione continua dell'opinione pubblica soprattutto da parte di chi riveste ruoli istituzionali. Fin troppo chiaro il dito puntato contro i sindaci del territorio da parte di Rassa, il quale ha difeso Alberto Firenze, precisando di averlo scelto come commissario d'acta per le sue capacità di risk manager apprezzato e competente che ha studiato e definito personalmente tutti i percorsi. Il risk manager del Policlinico di Palermo fa sapere di continuare a portare avanti il suo lavoro con il solo obiettivo, dice, di mettere in sicurezza pazienti e operatori sanitari. È stata la regione ad individuare negli ospedali riuniti di Sciacca e Ribera un'area Covid per il distretto ospedaliero Agrigento 2 con la creazione di 20 posti letto nei locali dell'ex unità operativa di medicina e di 10 posti di terapia intensiva a pressione negativa con percorsi, zone prefiltro e filtro e monta lettighe dedicate. Nella messa in sicurezza per i pazienti non Covid attraverso e pronto soccorso generale è stato creato, fa notare Firenze, l'accesso alle aree di ginecologia ed ostetricia, pediatria, cardiologia, conemodinamica, psichiatria, oncologia, urologia e chirurgia generale, comprese l'unità di ortopedia e otorinolaringoietria. Le terapie intensive non Covid sono state strutturate in un blocco a parte, con percorso definito pulito e senza commistione di areazione con le aree Covid. L'organizzazione che ci siamo data mette al sicuro ai pazienti perché non c'è possibilità di contatti, aggiunge Firenze, fin dall'inizio in stretto contatto con l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. Confermato poi come il blocco operatorio di Ribera in base al piano di integrazione dovrà fare da supporto ad eventuali urgenze di altre branche chirurgiche presenti nel plesso di Sciacca in caso di pazienti affetti da Covid, fatta eccezione per le urgenze ginecologiche ed ostetriche ed emodinamica Covid individuate per decreto assessoriale presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Alberto Firenze aggiunge come si sia posto fine a quella che il commissario definisce una grave criticità presente nel plesso Saccense che prevedeva un accesso ad operatori e pazienti senza alcuna regola per l'innumerevole presenza di varchi non autorizzati. E così oggi l'accesso alla struttura ospedaliera di tutti gli operatori è possibile superando un apposito filtro con misurazione della temperatura ed effettuazione del link epidemiologico utilizzando solo tre varchi dedicati alla contemporanea chiusura di tutti gli altri. Si è anche determinata, dice ancora a Firenze, la possibilità di un'accoglienza del personale sanitario e sociosanitario maggiormente esposto ai fini di tutelare i medesimi e i rispettivi nuclei familiari nei locali della foresteria del plesso di Sciacca per evitare che operatori sanitari divenuti positivi piuttosto che contagiare i propri familiari possano rimanere in quarantena all'interno della stessa struttura ospedaliera. Infine, allo scopo di meglio operare all'interno degli ospedali riuniti di Sciacca Ribera, Alberto Firenze fa sapere di avere deciso di avvalersi ponendolo totalmente a proprio carico di un proprio staff di un board scientifico di risonanza nazionale a supporto della propria attività. Del board fanno parte docenti universitari ed esperti nelle varie branche specialistiche mediche Luciana Bevilacqua, Claudia Colomba, Roberto Bordonaro, Roberto Lombardi, Dario Piazza, Gaetano Settimo, Antonio Carrotto.